amici di saper fare eccoci qua al quinto video di questa serie di video che stiamo facendo per quanto riguarda la registrazione o meglio imparare a montare un kit di video sorveglianza e ovviamente nei video che ci si stanno susseguendo stiamo adesso partendo con quest'altro e il quinto come dicevo dove faremo vedere come settare l'orologio dell'nwr perché l'orologio rispetto all'orario attuale è sballato cioè praticamente risulta un altro orario quindi come vedete risultano le 17 01 del 25 maggio in realtà sono le 11 di mattina se vogliamo vedere esattamente adesso l'operatore vi prenderà lo smartphone così metteremo precisamente l'orario guardate sono le 10 e 57 quindi andiamo adesso a impostare l'orario nell'nwr facciamo clic con il destro in qualsiasi punto dello schermo però in questa questa volta anziché su playback dobbiamo andare su main meno quindi meno principale andiamo su system dopodiché andremo su general come vedete qui abbiamo appunto dobbiamo fare alcune distinzioni abbiamo qua da inserire il nostro orario dell'europa quindi rome paris amsterdam una volta selezionato vedete che già abbiamo le 10 02 quindi dobbiamo solo spostare di diciamo di un'ora in avanti e andiamo su cliccando sul 10 facciamo 11 e confermiamo una volta fatto questo possiamo impostare come data anziché l'anno il mese e il giorno possiamo impostare diversamente facendo clic in questo punto quindi mese giorno e anno oppure di solito all'italiana giorno mese anno quindi selezioniamo in questo modo dopodiché possiamo inserire il separatore come trattino oppure un altro tipo una specie di diciamo così di barra uno slash lasciamo il trattino formato 24 ore oppure 12 ore e la lingua la possiamo impostare o in inglese o in russo portoghese turco o poland quindi facciamo noi english lasciamo in english l'hard disk overwrite cosa significa significa che l'hard disk partirà praticamente una volta che si riempirà completamente ripartirà a scrivere tutto ciò che c'è in precedenza quindi se noi abbiamo un hard disk da un tera e quindi da mille giga di solito registra circa 18 giorni dopo 18 giorni se nessuno ha diciamo ha fatto nulla si riscrive di nuovo partendo dal primo cluster fino all'ultimo quindi andiamo a dare ok adesso sul nostro meno lasciamo tutto per così per per come le altre impostazioni premiamo ok e adesso usciamo direttamente dopo di che appena poi andremo a vedere questo in queste impostazioni non ci saranno più saranno impostazioni diverse perché visualizzeremo il giorno il mese e l'anno una volta riavviato poi il nostro nvr perché bisogna riavviarlo quindi come vedete è molto semplice andare impostare la data nel prossimo video il sesto che faremo faremo vedere altre cose importanti per quanto riguarda l'impostazione del nostro nvr ci vediamo al prossimo video vi ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale youtube saper fare attivate la campanella per essere sempre aggiornati dei nuovi video ciao a tutti